Cantine Belia è una cantina dell'ISON a Pramaggiore e come premi mettiamo in premio una bottiglia di Cantine Belia ma anche un decanter, un decanter con il logo Golf e Musica. Pertanto hanno il decanter con il logo Cantine Belia e l'associazione Golf e Musica. Questo di fatto ha messo in palio un viaggio premio per il primo classificato della classifica Golf e Musica dell'anno 2019. Grazie per la visione!